La manipolazione dei mercati esiste davvero? Ciao a tutti, io sono Arduino Schenato da YAR Forex, sono un trader da oltre 15 anni e in questo video voglio dare la mia view di questo tema, la manipolazione dei mercati, su cui negli ultimi anni si è dibattuto molto. Io ho visto moltissime persone che parlano di questo, addirittura sono create tecniche che parlano di ordini di questo, di quello, perché lì c'è la manipolazione e questo e quell'altro. Io sinceramente ho la mia visione e è una visione di un trader che lo fa per mestiere questo lavoro da ormai tanti anni e andremo a vedere in questo video alcuni esempi di manipolazione, di manipolazioni che sono avvenute sul mercato e di trarre delle conclusioni da quello che cercheremo di comprendere in maniera più chiara. Diciamo che in questo ultimo periodo sento con molta superficialità la convinzione che i mercati siano manipolati o che siano manipolabili e potremmo dire che questo tipo di convinzione fa molto spesso da alibi per giustificare errori che si fanno nel trading oppure comunque gestione del proprio trading, delle proprie posizioni, della propria azienda di trading, non calibrata questa gestione e direi anzi irrazionale. Infatti se ci pensiamo il detto i mercati sono manipolati diciamo che io l'ho più sentita da trader retail, cioè da trader che solitamente perdono soldi sui mercati. Quando ho discusso con trader di un certo livello il discorso della manipolazione non si è mai verificato. Queste grandi banche, queste mani forti diciamo come vengono spesso chiamate diciamo che l'idea è quella che andrebbero a manipolare i prezzi di un asset a loro favore per danneggiare i piccoli investitori come me o come te o come voi che state ascoltando per lucrare, per andare a guadagnare. Allora sono successe delle manipolazioni sul mercato, queste manipolazioni sono state anche multate dagli organismi di vigilanza, quindi per carità ci sono state le manipolazioni, però in questo video appunto voglio vedere insieme a voi il tipo di manipolazioni che si sono verificate e fare delle riflessioni molto molto pratiche riguardo a quello che è avvenuto e se in effetti queste manipolazioni possono averci creato uno svantaggio nel nostro trading. Quindi vi lascio al video e alla parte dove attraverso delle slide andiamo a vedere questo tipo di esempi reali che sono successi nei mercati. Eccolo qua. Tra il 2005 e il 2009 un pool di banche avrebbe manipolato il tasso di interesse LIBOR, che non sarebbe nient'altro che il nostro EURIBOR, ovvero il tasso interbancario overnight che si scambiano tra banche. Ogni giorno appunto le banche stabiliscono un tasso di interesse per scambiarsi liquidità e questo tasso di interesse spesso è minore al tasso di riferimento della banca centrale. Sono emerse delle mail e delle telefonate tra trader di alcune di queste banche diciamo che hanno fatto presumere di una manipolazione del LIBOR. Queste banche sono state multate però questo mercato non è un mercato utilizzato in maniera massiccia dai trader retail. Voi avete mai tradato il LIBOR? Ecco, spesso tra l'altro è un mercato praticamente solo dove vanno a operare grossi operatori. esempio 2 un altro scandalo molto recente è relativo al mondo del forex. Tra il 2008 e il 2013 lo avrete letto pare che in alcune chat private di trader di banche d'affare ci si scambiassi informazioni riservate con cui questi grandi attori del mercato queste mani forti potevano lucrare. I regolatori hanno stabilito che appunto in questo periodo in questi 5 anni questi trader avevano avuto una condotta non idonea scorretta e sono quindi stati multati per svariati miliardi di dollari. Questo riguarda una manipolazione che determina movimenti di prezzo minimi perché in termini di volumi su un mercato OTC over the counter come quello delle valute è davvero molto difficile riuscire a far cambiare la struttura di un mercato nel medio termine proprio perché è molto liquido e quindi è molto difficile la manipolazione vera. Io per manipolazione vera sto dicendo quella manipolazione che cambia la struttura di un mercato. È ovvio che se io muovo la sterlina Yen di 6 pips la mio vantaggio perché magari sto lavorando con dei principi di alta frequenza o di qualsiasi altro tipo ma non vanno questi a come dire modificare quella che è la struttura di fondo. quindi io parlo di vera manipolazione quando si parla di questo. Ricordiamo infatti uno degli esempi più storici e importanti ovvero il 15 gennaio 2015 con lo stacco della PEG sul franco dove nemmeno la Swiss National Bank è riuscita a mantenere il tasso di cambio sopra un evento. molti di voi molto giovani non se lo ricorderanno io anche se li porto bene ho 42 anni e faccio trading ormai da oltre 15 quindi nel 2015 il 15 gennaio c'ero e tra l'altro avevo anche degli ordini e come andate a leggere nel caso non sappiate erano alcuni anni che la banca svizzera riusciva immettendo liquidità a mantenere il tasso di cambio eurofranco al di sopra della barriera 1,20 che era stata definita la PEG per non far scivolare il cambio al di sotto di questo livello. Fintanto che per motivi dei quantitativizing all'epoca della BCE insomma a un certo punto la Swiss National Bank non riesce più a mantenere il cambio non vuole più mantenerlo non è più disposta a spendere ancora soldi per mantenere il cambio e il cambio è crollato. Potete ben capire che qui non si parla nemmeno di una banca d'affari come può essere JP Morgan come può essere HSBC Goldman Sachs tutte quelle che volete ma stiamo parlando di una banca centrale che stampa i soldi quindi già qui capite come il mondo del forex per fargli cambiare una struttura per far sì che il movimento di prezzo sia veramente pesante e quindi che sia una manipolazione che per quanto mi riguarda possa avere effetto e quindi possa avere un effetto negativo nella mia operatività in questo caso il tipo di manipolazione con cui questi trader probabilmente hanno hanno fatto e quindi hanno avuto una condotta per carità assolutamente sbagliata e quindi truffaldina nulla da dire ma se poi andiamo a vedere in termini di quello che è realmente successo questo cosa ha spostato per un trader di breve termine come posso essere io nel mercato delle valute non me ne sarò neanche accorto io non me ne accorgo perché il mercato in questo caso mantiene la sua struttura magari questo tipo di manipolazione poteva valere due pip tre pip non so se ci spieghiamo altra cosa altro esempio i casi di insider trading per esempio cioè ovvero la conoscenza di un'informazione prima che questa sia conosciuta dalla massa in questi casi questa informazione non conosciuta dalla massa ma solo da alcuni operatori può portare a movimenti improvvisi e violenti volti a far guadagnare il soggetto che ha l'informazione privilegiata prima che questa sia di domino pubblico anche qui per un trader retail questo non sposta nulla se il trader ha un metodo che prevede un piano operativo di entrate uscito dalla posizione sia in perdita che in profitto non avrebbe nemmeno non dovrebbe nemmeno preoccuparsi di questo fenomeno che tra l'altro è questa tecnica che è una tecnica truffaldina fraudolenta molto difficile quasi impossibile appunto nel mercato delle valute perché è troppo liquido potrebbe venirsi a creare un insider trading si è sempre creato questo insider trading sono esempi sul mercato delle azioni sui titoli soprattutto i titoli che magari non hanno neanche tantissimi scambi ma comunque è già un fenomeno più fattibile più plausibile nel mercato come quello del forex è un qualcosa di veramente molto difficile esempio 4 di manipolazione nel 2016 è avvenuto un flash crash sulla starina britannica anche qui qualcuno di voi forse è un po' troppo giovane non se lo ricorda e si è parlato del fat finger del grasso del dito grasso nel dito che non ci sta bene sulla tastiera e ha cliccato male durante un momento di minore liquidità la sterina contro il dollaro usa ma in realtà vi dico anche contro altre valute ha subito un calo del 6,1% in pochissimo tempo in questo caso è possibile che ci sia stato un forte accumulo e accavalarsi di ordini che hanno creato un effetto domino qualcuno ha parlato di fat finger ovvero un ordine errato per quantità immesso sul mercato in questo caso è molto probabile che invece di fat finger o di manipolazione vera e propria si possa parlare di trading algoritmico che ha creato una serie di posizioni che hanno poi creato un flash crash cioè un algoritmo si è mosso e altri potrebbero essere scattati perché poi questi si muovono anche in questo modo quindi in quei momenti si era parlato del fatto che questo fat finger era stato creato tutto appositamente nell'orario notturno dove ovviamente c'era meno liquidità quindi è più facile spostare se c'è meno liquidità un tasso di cambio soprattutto poi alla fine se si va bene a osservare molto probabilmente qui sono scattati ordini su ordini che hanno creato un domino che ha portato un movimento quindi più che di manipolazione è stato un movimento di mercato di questi tempi dove gli algoritmi comunque hanno un forte accento sono molto sono molto come dire importanti ce ne sono parecchie sul mercato quindi possono creare questo tipo di situazioni ma anche qui se io faccio il mio trading e non scalpo per esempio il mercato cioè non vado ad avere degli stock di 10 pips o cose di questo tipo io non ho nessun problema a fare un trading sano con i miei stock e i miei ordini target esempio 4 sempre di manipolazione i casi di spoofing questo è un ne sono avvenuti tantissimi anche negli ultimi anni anche qui le banche che hanno sono state trovate fare spoofing hanno sono state multate e questa è un'operatività scorretta che vedrebbe l'inserimento di grandi ordini su alcuni livelli di prezzo per poi toglierli al momento opportuno e cercare così di spostare le quotazioni a favore appunto del trader che fa questo tipo di tecnica questo tipo di tecnica però come scrivo qui va a interferire più su un'operatività di tipo scalping visto che un trader che lavora meno nel brevissimo termine non si accorge nemmeno di queste dinamiche come è stato anche per le altre manipolazioni esempi di manipolazione che vi ho appena spiegato anche qui questo tipo di manipolazione può far cambiare qualcosa sul mercato dove è stato utilizzato solo nell'ottica di qualche secondo qualche minuto ma non consente di manipolare i prezzi nel medio e nel lungo termine riflessioni finali le cosiddette mani forti non possono determinare la direzione di un mercato nel medio o nel lungo termine perché ci sono troppi operatori e troppi volumi in gioco soprattutto nel mercato delle valute nel mercato del forex quindi non perché è un mercato non regolamentato che significa che è più manipolato anzi un mercato OTC come quello del forex che per sua natura è OTC i future sul forex praticamente a livello di liquidità non esistono perché c'è talmente poca liquidità che il mercato del forex il vero mercato del forex è over the counter non regolamentato e appunto perché non è regolamentato ed è così liquido che ha assolutamente molta meno diciamo influenza riguardo alle manipolazioni un mercato invece è regolamentato solo perché a volte vedete i termini influenzano anche la nostra il nostro approccio al mercato è regolamentato va bene non è regolamentato non va bene non è regolamentato ma vediamo i motivi perché è un mercato che è così la quotazione del mercato forex la fanno i market maker la fanno le grandi banche il mercato delle azioni invece decide il prezzo di quella di quella azione ovviamente è il mercato ma c'è una borsa che definisce poi quel prezzo e ha un'apertura e una chiusura ed è un mercato regolamentato per quel motivo ma perché è regolamentato non significa che ci possono essere dei come dire dei fattori di manipolazione come abbiamo visto l'insider trading è spesso stato un fenomeno manipolativo manipolatorio scusate ma nel mercato delle azioni nel mercato del forex no quindi diciamo che anche qui dobbiamo capire che cosa per noi significa manipolare il mercato se manipolare vuol dire aver fatto quelle tecniche che sicuramente non sono tecniche corrette sono tecniche che sono da condannare per carità ma sono tecniche che spostano di quanto il mercato di quanto lo spostano a quella manipolazione che è stata fatta sul forex sulle azioni tutti gli esempi che abbiamo fatto ce ne saranno altri ho preso un po' i più conosciuti i più importanti quanto vanno a incidere sulla mia operatività incidono mi svantaggiano realmente oltre a queste grandi banche nel mercato ci sono poi banche centrali come abbiamo detto hedge funds fondi family office trader chi più ne ha più ne metta potremmo dire che gli unici mercati che potrebbero soffrire di una manipolazione vera e propria quindi quella che io definisco vera e propria cioè un cambiamento del movimento un vero cambiamento è sui mercati poco liquidi come azioni a bassa capitalizzazione ma anche qui probabilmente diventerebbe difficile proprio perché la poca liquidità non permette a questi grandi attori di fare dei colpi seri quindi per finire non facciamoci fregare ho scritto qui pensiamo con la nostra testa ok cerchiamo di riflettere non che qualsiasi cosa ci venga detta da un media da un canale youtube da una persona che riteniamo forte nel settore da un articolo letto da qualsiasi cosa ci possa influenzare senza che noi possiamo mettere il nostro pensiero critico e approfondito ok ve lo dice ripeto un trader che non è qui da 3-4 anni sul mercato è tanto tempo che sto sui mercati invece di pensare che qualcuno sia pronto a fregarci dovremmo pensare a diventare competenti nei mercati e imparare a gestire noi stessi nella maniera più razionale possibile sono i nostri comportamenti a definire i nostri risultati tutto il resto sono alibi quindi una volta che capiamo che tipo di trader vogliamo essere abbiamo capito che vogliamo lavorare pianificando il nostro trading operando in un modo dove questo tipo di fenomeni se ci dovessero essere non vanno a impattare nella nostra operatività dobbiamo poi imparare a gestire le nostre azioni quindi il nostro click del mouse capire se entrare se non entrare quindi stare fermi se siamo dentro un mercato se è giusto uscire se è meglio rimanere queste sono le nostre azioni queste nostre azioni derivano da un pensiero a volte purtroppo derivano da emozioni e quindi andiamo a operare in maniera poco razionale più emotiva quindi noi dobbiamo lavorare sul fatto di crearci un metodo di lavoro conoscere bene la parte tecnica e conoscere poi bene noi stessi e gestirci nel modo migliore per far sì che i nostri risultati siano buoni e che quando si perde si perda meno si perda poco io perdo ragazzi io ho dei mesi in perdita è normale e lo faccio da tanti anni devo saper gestire la perdita come ho dei mesi in profitto e per fortuna ce ne sono stati e ce ne saranno svariati di mesi in profitto ma anche lì devo saper gestire il profitto e amministrare e pianificare e fare l'imprenditore in un mercato come quello del trading dove ci sono dei grandi player molto bravi molto forti che conoscono molto meglio di me e voi il mercato ma questo non è per forza il fatto che siccome loro hanno più conoscenze o hanno manipolato e magari manipoleranno con i loro modi il mercato vanno a cambiare una struttura di fondi noi dobbiamo usare i nostri mezzi per far sì che poi riusciamo ad essere profittevoli e non è solo una questione di tecnica è anche una questione di gestione di noi stessi e di gestione dei propri soldi quello che si definisce il money management spero di avere sensibilizzato con questo video magari è un po' lungo forse ma non mi interessa voglio che mi lasciate dei commenti qui sotto il video perché troppe volte sento questa cosa della manipolazione e ho dovuto dire la mia perché penso che ci sia stata un po' troppa inflazione su questa manipolazione di tecniche non tecniche solo per vendervi un prodotto un servizio la manipolazione c'è stata c'è è esistita ma capiamo che tipo di manipolazione è stata esistita sul mercato manipolazione che per il nostro tipo di metodo ha influenzato il nostro può influenzare la nostra tecnica il nostro trading o no pensiamo con la nostra testa come ho scritto qui non facciamoci fregare e lavoriamo in maniera razionale anche per oggi è tutto io vi chiedo di lasciare un bel like a questo video e di iscrivervi a questo canale se non vi siete ancora iscritti vi saluto e vi aspetto qui nel canale Yalforex grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti